Gli esponenti del mondo musulmano mandano un messaggio forte all'Europa. 63 imam hanno manifestato lunedì davanti alla borsa di Bruxelles per ricordare le vittime degli attentati terroristici e prendere le distanze dal fondamentalismo religioso. Siamo qui per rendere omaggio alle vittime e dire no a questi criminali, spiega il presidente della conferenza degli imam di Francia. La nostra religione, l'islam illuminato, non appartiene a questa minoranza che ci tiene in ostaggio e cerca di reclutare i nostri figli. Affrontare Daesh è rischioso e questi imam rischiano la loro vita. L'iniziativa organizzata dallo scrittore ebreo-francese Marek Halter ha ricevuto il sostegno delle autorità politiche, tra cui il ministro dell'interno Jean Pond, presente anche lui in la manifestazione. Penso che questo sia un segnale forte proveniente dal mondo musulmano. Abbiamo sempre sostenuto che la stragrande maggioranza dei musulmani non accetta questi atti terroristici, certamente non lo giustifica. E oggi tutti questi imam insieme hanno dimostrato che è vero, in quanto sono loro le prime vittime di quello che sta accadendo. Partita da Parigi, la marcia dell'imam ha già fatto tappa a Berlino e terminerà il 14 luglio in Francia, dove attualmente vivono a comunità i 3,5 milioni di musulmani. La delegazione si richiede in altri luoghi colpiti dagli attentati terroristici, come Tolosa e Nizza.